Allora, 3, 2, 1, pronti! Ci ritroviamo a mettere! Oggi vede anche un riconoscimento, un aumento rispetto alla difficoltà dell'inflazione. È una sinergia forte che riusciamo a valorizzare ancora all'interno del nostro sistema. Più sicuro in questo territorio, poter attraversare in sicurezza. Il progettone, tante lavoratrici, tanti lavoratori. Buona fine estate, grazie. Allora, siamo agli sboccioli, prometto, perché ormai mi sono deciso per gli amici, esatto. Che di fatto, insomma, eravamo percorso vita, che abbiamo rinominato Sentiero del Sole. Capite perché? Dell'essere in punta di piedi dentro un sistema natura, che quindi qui da noi prevede il corso. Io non mi dilungo oltre, appunto ringrazio, ringrazio anche... ...d'un'impresa, un'impresa che quindi è un'operatamente tecnica. ...comune. Qua c'è stata una sinergia tra provincia e comune. ...essendo che passa sopra una strada, per renderla più leggera possibile è stato il parapetto. Il parapetto che ci ha fatto... ...le varie, diciamo, alternative, i micropali. ...di questo muro. All'inizio, se ricordi, Tarcisio era una struttura... ...il mix non esiste, ma è solo la vera tendenza. Quindi, grazie a queste persone, ecco, Giovanna ha spiegato bene... ...a questo paese, a questi cittadini, perché ho fatto un giro qualche settimana fa... ...è il ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.